Gabriele Manfredi, allora a Vievola si riapre un museo importante, lo avete ricostruito come associazione per lo studio del Vallo Alpino, si può visitare un bunker? Si può visitare un bunker tutte le domeniche controllando le date sulla nostra pagina di Facebook. Tenete conto che è l'unico bunker del Vallo Alpino ripristinato nel suo stato originale, quindi dovete assolutamente non perderlo. Quindi prossimo appuntamento 25 agosto? Prossimo appuntamento 25 agosto, vi aspettiamo. Volendo sulla pagina Facebook di Asval, giusto? No, Museo o Asval o Museo del Vallo Alpino. Lì si trovano anche le aperture straordinarie. Le aperture e i recapiti telefonici per prendere gli appuntamenti se uno volesse venire ad esempio con una scolaresca. Quindi appuntamento a Vievola per andare a scoprire questo pezzo di storia della seconda guerra mondiale, in realtà che per fortuna non ha funzionato, lì non si è sparato però ci sono tante cose interessanti. Però sì, la storia si tocca con mano, è un museo dove si può toccare, nel senso letterale del termine. Viene spiegato tutto dalle guide, si va con la guida e si è veramente liberi di interagire. E sono messi anche i visitatori a quattro zampe, è vero? I cani sono benvenuti, assolutamente. Grazie. 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 Grazie.